quasi gaming stagione 3 la ribellione e tyler hero ragazzi a questo giro non si fanno prigionieri siamo harry perché si è messo il quintetto più tignoso eva una roba e te non ci puoi avere niente che fa ho messo il meglio il meglio in assoluto bisogna questa qui bisogna portarla a casa perché siamo sotto importante se ne perse due a fila un macello voglio sperare che tra i meglio ci sia anche te e tyler hero non ti ho mai provato con questo capino a top gun ma io voglio sperare no e quindi subito dentro 42 minuti per cui Dejount e Murray tyler hero tu cosa la manca titolare 40 non ho mai giocato titolare ball 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 record man di stop ball ball 42 minuti e drammond per attentare al record di rimbarsi è il meglio quintetto che noi si vuole mai aver pensato quest'anno proprio senza neanche discussione dalla panchina i poro cicatricio chiaramente tutti con sei minuti torna kcp perché avete liberato lubos barton e confermato kcp e lo zampirone perché io ero tentato da immette ancora i poro prezzolato ma penso che mi avreste chiuso il video proprio senza neanche guardarlo un secondo zion williamson sei minuti quelli che ti meriti e taho fall il secondo primo somma gemello di destino dice ma quello grosso pochi minuti in questo modo approvata e due so due partite ci giova contro è un neppose un non fatto fa la fine di gordon e ward è proprio neanche convocato proprio a casa neanche senza avermi la cinese subito pronta mette ansia è una partita complessa perché noi dobbiamo subito provare a inserire tyler irro dal quale non so che cosa aspettammi cinese di dio subito e secondo me gli hai dato delle valutazioni bassine tutte b b più b meno insomma secondo me è meglio di così tyler irro ma le valutazioni si sa che fanno fede fino a un certo punto quello che importa veramente poi è il campo il rendimento sui campo e ovviamente la visuale che c'è da cambiarla un'altra volta questo fatto che si giochi in casa non lo so di solito noi il meglio di del nostro repertorio lo tiriamo fuori in trasferta però volevo dire tanto la palla a due si è vinta vai è toppe subito a mietere vendetta perché te ci avresti anche ti ci avresti anche abilità capito di costruiti tiro di per conto tuo si fa vedere la galletta di riso che non riceve arriva de jonte marri finta partenza in palleggio gran palla dentro pebo come hai fatto come gasol per cominciare de mar de rosa da questo giro la vedo buia la vedo grigia la situazione perché sei accoppiato con tu cosa la manca e dietro c'è bol bol de jonte marri 3 a 0 piano 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 non fare la fine di le vert che ha giocato una partita e poi non si è rivisto più perché tirava tutto quello che gli passava tra le mani de jonte marri ancora sfruttare il blocco non taglia drammond incolpevole ritardo ringollato la ripiglia la riperde fallo paterniò attenzione ali burton attenzione ali burton che c'ha visione di gioco drammond in due tempi niente la danno a loro come norm de storm nolan se tu difendessi in questo modo anche nella realtà drammond e stava 1 a 0 per bruglin guarda tu guarda tu che pallone ti ha messo lì e ma com'hai fatto a sbagliare la stiacciata tommi all'antico vinaio ci volea nell'angolo nell'angolo tu salamanca date che giocatore allucinante comunque direi che la difesa per ora ha funzionato loro so a 0 come il renato finese ve lo pare nil il grande artista di art attacche vada che rotazione tipo doiana che ci sa tutti in campo sempre i soliti non si cambiano neanche a stiantà così vi voglio agguerriti accaniti come tu cosa la manca zero farai de mar de rosan stasera o tu cosa la manca che poi prova subito ad attaccare di prima intenzione fino in fondo va bene ma che giocatore prezioso che è ma guardalo ma guardalo andrebbe clonato come la fecora dolly ma poi ma poi ti costruisce ma costruisce dei tiri de jonte marry e flex and the drummond 8 a 0 bravo bravo l'hai abbracciato e festa finita allora rap è già buttato dentro taho fall lo zampirone e kcp che fa il suo ritorno trionfale dopo essere stato sceduto ripescato confermato ha preso subito chiorba qui c'è portis che prova ad attaccare contro taho fall poi si accorge che non finisce mai e quindi riapre dall'altra parte dentro per chiorba bravo happa gli hai dato noia gli hai fatto sentire la presenza e un 6 grosso poi colosso di rodi 2 taho fall ma questi coi secchio ma perché portano i secchio ma che c'hanno da fare la festa dell'uva allora ora c'è proprio tutta la panchina perché è entrato anche zion williamson che è subito rimasto dietro eh il ministro della non difesa ma guarda a questo punto gli si può anche dare il pallone tanto per cui poi dovrebbe giocare troppi danni volevo dire un'i dovrebbe fa' e cala joel mbid ti venisse a trovare no zaradan a casa comunque comunque ragazzi io non lo so ma noi si rischia di farli finire a due e perché ora è entrato il secondo vintetto ma il primo vintetto ha giocato una partita che roba da chiodi trovato taho sui perimetro che è poco pericoloso è più pericoloso zion williamson per noi ovviamente perché è un pericolo incombente si stoppa contro le braccia protese di difensore poi fa la foca tornando indietro su una gamba sola e siamo arrivati quasi all'ultimo possesso c'è una discrepanza di un secondo, un secondo e mezzo con il cronometro di primo quarto 10-2 il punteggio c'è KCP che si fa battere in palleggio poi però recupera, gli tira una manata si riesce a recuperare il possesso ci proverà cicatricio a tutto campo verde addirittura fuori 10-2 vero l'importanza di restare competitivi è nonostante zion williamson che giova per quell'attri sottotitolo comunque è imbarazzante perché zion williamson tipo le prime due partite ce l'ha fatta vincere da solo e poi ha cominciato a unchiapparci più nulla stessa cosa ha fatto il porro Lubos Barton quantomeno Gordon Hayward è stato coerente con la vita rispedito, immettente, bol bol dicevo è stato coerente perché quantomeno ha sempre fatto schifo dai a tirà Tyler Irro perché sennò è inutile che ti si sia messo è tornato il quintetto titolare dai blocchi Irro ha una mezza idea poi ci ripensa il blocco della galletta legge Tyler Irro è fallo paderniò è fallo Irro e continuano a darti pallone nella speranza che tu crei qualche cosa dai palleggio perché sennò a noi si difende a foo ma non si fa mai canestro quello è stato il nostro problema proprio storico ancestrale d'utili liberi Dejonte Murray inutile fai Haby Lane ha fatto fallo e scettavo arzaginocchi fare le trivelle di petrolio ma lui proprio ti viene a pigliare all'aeroporto come diceva Ibranchi te non ci puoi proprio avere niente a che fa co tu cosa la manca qui però l'ha perso perché non è arrivato l'aiuto secondo canestro di loro in tutta la partita va bene pronto centralino la volevo passare lì eccoci eccolo eccolo è la sua no lo sapevano anche loro ragazzi si è difeso bene per tutta l'azione non ci si merita questo canestro Dramond dove sei andato va bene Tyler Irro no ci siamo persi la tripla di Wendell Carter Jr cinese squid game dei fatti quello ti riesce bene basta le ballerine volanti è di là è di là il blocco è di là il blocco Tyler Irro ancora indietreggia poi riapre Murray tu con nell'angolo ultimi cinque secondi blocco di Dramond ci sarebbe Murray lo vede tu cosa la manca è un giocatore pazzesco a prescindere dal fatto che questo non la può le tenere in mano ma tu cosa la manca è nella letterina di Babbo Natale di tutti gli allenatori di mondo eccoci rimasto dietro comunque cinese che te un dun capisci nulla di Gioini si vede dai fatto che se nella realtà due donne fossero arrivate vestiti uguali come quelle due vestiti dietro di rosa sarebbero andate a cambiarsi non una ma tutte e due e invece niente l'hai fatta sedere anche accantomi c'è Dracolan in mezzo e poi loro senti io a occhi e croce la farei finita di arsare questa liup Canyon Martin uno vedo kid neanche che è Taho 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 si è smesso e il discorso tecnico sta in poi posti noi fino a un certo punto si è giocato poi si è detto basta per oggi noi e quindi si è perso ora ci sarebbe una ricezione di Zion Williamson ma che ta di bravo secondo me ha fatto meglio così KCP da tre punti rimbarso di Zion ce la farai con domani come NBA Lane 75 lo sapevo io guarda io non te li darei tipo ai Campino quando tiri di tabella e non la dichiari io a chi si butta indietro tu punti non glieli darei dice ma io ho fatto a netro e io te li levo si darà a vedere se lo continui a fallo fallo di Rubio paterniò ma Rubio chi? lo chef perché il nostro fallo non ha fatto c'è quattro seondi c'è quattro seondi c'è quattro seondi ma come si è fatto a chiapare i tre punti in i capo in quattro seondi Rubio ma sarà possibile da Montemorris si è chiapare i canesi in i capo eh era meglio a Montemorli ahimene il vino ci viene buono allora se si gioca come in il primo quarto la partita non comincia neanche Dejonte Murray per Andre Drummond se si gioca in i seondi invece finisce subito e Dej Fatro ecco d'esto cioè appena ricevi ti dei piglià e tirà perché sennò quello t'ha cammenati capito? ce l'hai ce l'hai e il tuo i jumper rimbalzone di Drummond e poi t'ha pinne meno uno ancora come o l'uomo namaha ma ci sa anche la Yuti capito? ci sa anche la Yuti la Yamada da casa Jerry Scott ci sanno tutti nell'angolo nell'angolo Top Gun da tre top gun top cinese top gun ma farai ma farai occhio occhio è appostato è appostato è appostato sente l'odore del sangue hai fatto bene a riaprire ragazzi siamo miracolosamente a meno uno in partita nonostante non si giochi da un quarto e mezzo De Rosam prova ad attaccare Regge tu lo porta su Trammond a palla a volo Tai a gioare e niente niente purtroppo Top Gun deve cambiare sport anche i cinese volendo potrebbe cambiare lavoro ci farebbe un piacere a tutti se si mettesse a fare i flip invece dei giochi della Playstation e l'Xbox ma comunque manca due secondi De Jong cosa la manca in quel modo la cosa che mi preoccupa che noi ora visto l'inizio della partita bisognava aver avuto De Jong de Mar intanto ogni traffico bisognava aver avuto un po' di vantaggio perché poi con minutaggi che ho dato io il quarto quarto era a riposo perché siamo tutti finiti e invece siamo lì a più uno comunque Dramond è un po' inattirati giù e ora si va a vedere alla fine del terzo quarto il record secondo me non si fa neanche a questo giro ma gli si fa fitta c'è Top Egan ancora in palleggio contro Bobby che farà io ho paura ci sarebbe Dramond sarebbe un mismatch però non è proprio questo grosso Hakim The Dream qui si ferma il piede perno passi verde il tabellone due più tre oh si sono accesi i piedi si sono accesi i piedi a Dramond ci sa due minuti di piedi accesi di Dramond c'è Clarkson in palleggio difende bene De Jong De Mar ne tira giù un altro ragazzi ragazzi questo pulisce lì sotto io voglio andare a vedere manca un minuto e trentacinque tu ho in palleggio Dramond che fa da sponda trovato De Jong De Mar ci sarebbe Top Gun non l'ha guardato neanche in inviso per non fargli pigliare la tentazione ha preferito dalla mano a quell'altro è un altro io non so se continuerei a dargli i palloni per farlo stancare perché guarda che ha preso una ire mica male Andre Dramond di forza come Tukahoti è passato oltre come se non ci fosse un domani Tukho Salamanca più sette addirittura Top e ce l'hai e ce l'hai il blocco di Dramond ultimi tre secondi deve forzare Top Gun niente mai una soddisfazione ragazzi teniamo non chiappiamo la tripla sulla sirena anche a questo giro siamo avanti di sette Clarkson rosso rosso più sette trenta ventitré e io voglio andare a vedere e io voglio andare a vedere perché in questo quarto qui ne ha tirati giù uno sfascello se il cinese ci desse la soddisfazione di Puseppi già starte ovvia allora tabellino individuo qui quindici rimbarzi qui si può vedere quanti in appresi come si fa a vedere quanti in appresi in il terzo quarto perché in il terzo quarto ne ha tirati giù roba sette occhio 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 e uno e uno e ci avresti anche range di tiro da costi capito ball ball si va da Dejount e Murray ultimi quattro secondi top gun se non mi sbaglio non ha ancora fatto neanche un canestro e un bid e un altro e un altro se non ho contato male siamo a pari con il record ogni epoca per cui Andre Drummond c'ha i 4.48 per tirar giù un rimbarzo io non voglio di niente ma comunque un rimbarzo uno uno anche per sbaglio in mano ti ci potrebbe casca anche da solo Dejount Murray spalla a canestro contro Ali Burton si svita tira niente non fa più canestro nessuno l'hanno tappati eccolo eccolo no no l'ha deviata gliela danno rimbarzo di deviazione glielo danno voglio andare a vedere alla fine dell'azione 6 secondi la difesa di top gun il blocco di Wendell Carter Junior ce l'hai ce l'hai 18 rimbarzi Andre Drummond record all time che giocatore pazzesco e allucinante e tra l'altro ora noi ci sanno in campo un temporaneamente 3 record all time gli assist di Dejount Murray le stoppate di Bolbol e i rimbalzi di Andre Drummond e poi c'è tu cosa la manca che qui si fa stoppare e poi arriva anche Gasol sta succedendo di ogni io penso che finirà così 30 a 23 comunque volevo ringraziare Top Gun perché senza di lui penso che questa partita noi forse si sarebbe quasi vinta ma non poi non poi fa canestro contro tu cosa la manca è peggio di Ibrahim Jabber che va a dire gioiamo con il cronometro tiriamo a falla finì così vada ai lavori le ha tirato una palla che manca quella che suona ai cani sarebbe un mismatch sarebbe un mismatch ma con questo è tu cosa la manca per poco va bene ragazzi si sono fatti accendere i piedi a Wendell Carter Jr rendiamoci conto di come siamo messi manca un minuto e trenta siamo a più cinque palla in mano agli Wizards c'è Dejount e Murray su De Mar de Rosan lo porta su Dramond arriva Bol Bol e lo cance attenzione attenzione è rimasto Tuco si butta indietro l'errore Dramond si va per 20 mi 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 contro i piedi accesi Andre Dramond pare a Shevon Trautman 20 se non ho contato male ragazzi ti sei accesi Gatorade Top Gun ti hai tirato troppo a Sarve ma dove va ma dove va è lì che palleggia fitto fitto poi vira si butta dentro arriva gasol e casca è morto non c'è più ti è andato a questo punto lo devi sbagliare ecco tremate 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 i gemelli del destino Jason Tatum è tornato la stoppata di Bol Bol voglio andare a vedere un sacco di statistiche a questo giro 32 a 25 urti b 5 secondi di una partita ma io non c'ho neanche l'aggettivo per descriverla si è vinta e comunque entra nella storia ma boh si sono fatti tiracco il 21% dal campo a te nei 40 minuti di Tuco Salamanca i 18 da 3 miglior realizzatore della partita a quota 10 è Andre Drummond che poi così tanto di perride aggiunge 22 rimb 22 rimbarsi 22 rimbarsi 10 e 22 rimbarsi negli assist 2 di Tuco Salamanca e di Dejonte Murray ma loro ce ne hanno 4 di Jerry Holiday nei recuperi niente noi niente noi niente loro 2 di Jerry Holiday e poi loro ce hanno 4 stoppate di Wendell Carter Jr fortuna e bol bol miete vendetta e allora una vittoria importante dopo 2 sconfitte di fila si torna a vincere e si pigliano 29 per 2 58 punti perché se era sotto in classifica gli si ripassa avanti 374 a 360 non cambiano le teste della classifica dal punto di vista dei numeri individuali allunga però bol bol nelle stoppate e qui nella classifica degli MVP si comincia a vedere anche Andre Drammond che sale ovviamente anche in quella di rimbalzi ma soprattutto il record che reggeva dal 13 di gennaio di 2021 quindi più di un anno ora cambia padrone 22 rimbarsi Andre Drammond supera l'impresa di pulizie Derek Favors e come si diceva ora abbiamo tre record all time insieme nella squadra di quest'anno squadra di quest'anno che ora avrà la bellezza di due estrazioni perché tu cosa la manca gli ha fatto fare 25 punti loro ce n'hanno sei per come poteva andare non è andata male perché loro si Brook Lovitz Hashimura ma insomma fondamentalmente quello che un po' gli invidio paradossalmente è Patrick Williams che a noi ci faceva comodo noi di allò però che va di per tenere di allò bisognerebbe dar via insomma si potrebbe dar via anche Gordon Hayward non lo so io sinceramente sarei per non aprirlo il sondaggio fatemi sapere però che se nei commenti ci dovesse essere una maggioranza di persone che ci vedano qualche cosa in di allò ci si potrebbe ci si potrebbe pensare ovviamente per uno tra Gordon Hayward e il poro stinto prezzolato perché per Pouzeski c'è un destino segnato e poi scoprirete a che cosa mi riferisco fatemi sapere anche come gestireste la rotazione oggi si è fatto molto bene in difesa molto male in attacco come al solito però mi sembra che la coppia di Lunghi funzioni Drummond Bolbol e boh non lo so Iro 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 non ho neanche visto quanto poco ha tirato Bada Iro dalla disperazione però non lo so non lo so vi leggo nei commenti settimana prossima sarà la numero 30 questo vuol dire che sarà l'ultima con la matrice attuale perché poi da quella dopo si accorcia e lì si va per gold io ve lo dico si va per gold per gold per gold per gold Grazie a tutti.